il risentimento che ho sul lavoro un mese fa ho lavorato in un programma grosso che non vorrei dire il nome su un teatro gigante e c'era un comico che doveva fare 8 minuti ne ha fatti 18 di cui non voglio dire il nome Pucci a un certo punto siccome io me la facevo a scale perché noi abbiamo i camerini al quinto piano l'ascensore troppo lungo sono andato in adrenalina sono andato in fiducia sono arrivato sopra e che appena l'ho visto gli faccio Pucci hai fatto 18 minuti e dovevi fare 8 e lui mi fa e beh è un pezzo bellissimo ci hai ammazzato la serata è comunque un pezzo bellissimo io sono Michele Cosentino ho fatto più di 5 minuti vi saluto ciao a tutti grazie Michele Cosentino non ho nulla da aggiungere è anche riuscito a far riaccendere la luce credibile se ne è accorto dopo un quarto d'ora che la luce si era riaccesa però adesso la rispegniamo e voglio vedere se il prossimo la farà riaccendere quindi accogliamolo con un grazie grazie a tutti